La mafia si comporta come un leone che deve cacciare la sua preda, corre, corre, anticipa sempre i tempi, riesce a pianificare le sue strategie, osserva, fiuta, sceglie il terreno del confronto e poi colpisce. Parole di Gianni Palagonia, il poliziotto antimafia, il poliziotto scrittore che oggi per motivi di sicurezza vive in una località segreta. Ho toccato livelli molto alti e praticamente ho avuto delle forti minacce io e la mia famiglia, pesanti pesanti minacce, sono arrivati addirittura a casa armati. Una mafia diversa, forse neppure tanto nuova della quale parla nei suoi libri, un poliziotto anomalo che ha scelto di raccontare sotto forma di finzione romanzesca una verità che spesso non si vuol sentire e non si vuol vedere. Gianni Palagonia, questo lo pseudonimo sotto il quale scrive, racconta fatti noti e meno noti della mafia. Con lei ha scritto due noir dove chi li legge percepisce molto bene che c'è un confine labilissimo tra la realtà e la fantasia. Ho voluto dare io quel taglio, ho voluto veramente non far capire in nessun modo al lettore qual era il confine tra la realtà e la finzione, però da un altro punto di vista volevo suscitare delle curiosità al lettore, l'essenza è vero oppure no. La mafia di oggi è ben lontana dallo stereotipo che ci viene ancora proposto da certa letteratura e dalle fiction televisive che ci raccontano ancora la vecchia mafia militare, quella dei corleonesi. Non ha quasi più il volto arrogante del delinquente pronto a spianarti la pistola in faccia, ma molto spesso ha il volto serio e disteso dell'imprenditore, del professionista, dell'uomo d'affari che firma segni e atti notarili e anche la sua collocazione geografica è cambiata. Le mafie non sono da decenni più delimitate entro i confini delle regioni che hanno dato loro origine, ma si sono allargate in aree un tempo immuni dall'infiltrazione mafiosa. La Toscana non è terra di mafia, ma la mafia c'è e gode di ottima salute, se lo dice Caponnetto. E nelle mani di nessuno il secondo libro di Gianni Palagonia si legge. L'indagine mi apre gli occhi sulla consistenza criminale di questa città provinciale piena di bellissimi parchi, piste ciclabili, strade asfaltate e pulite, uffici pubblici funzionanti. Una città che il sole 24 ore segnala tra le più vivibili d'Italia. Ad Arezzo e provincia negli ultimi temi mi sembra che sono state sequestrate, individuate parecchi appartamenti della Camorra, un po' troppi per essere un luogo così tranquillo e pacifico. Bisogna chiedersi chi e perché proprio qui sono venuti ad investire, cioè chi lo sappiamo è il clan della Camorra, ma perché proprio qui in genere non si muovono mai se non sono sicuri di avere in quel territorio qualcuno che è vicino a loro. Quindi bisogna tenere sempre alta la guardia. In Toscana non si spara ma si compra, si fanno affari e soprattutto ci si radica intessendo relazioni e costruendo reti di contatti che torneranno poi utili al momento giusto. Guardi, quando stavo in Sicilia giravo spesso l'Italia per sentire appunto i pentiti collaboratori che stavano in località segrete. Molti di loro mi dicevano che i luoghi dove più si erano radicati erano certamente la Toscana, l'Umbria, la Valle d'Aossa e anche altre realtà apparentemente tranquille. Gli unici che ora come ora possono fare investimenti perché hanno soldi e la mafia, quindi bisogna stare assolutamente attenti. Quando una società arriva al falimento e riapre bisogna chiedersi chi sono i soci che sono subentrati. Bisogna stare molto molto attenti a questo. Parla di lotta ai capitali mafiosi, cioè se gli togliamo i soldi è finita. È una cosa che dico sempre e che dirò sempre, anche perché ho esperienza sul campo, l'esperienza non è solo quella che è mia personale come poliziotto, ma è quella che ho tratto anche altresi racconto di molti pentiti che ho gestito. Se li rendiamo poveri li abbiamo battuti, il problema è che purtroppo ne prendiamo uno e c'è un altro a presso il suo posto e dobbiamo ricominciare tutto da capo. Però questa è la realtà e questo è il lavoro, quindi va bene così. Grazie.